Musica Continua la protesta degli agricoltori anche al rosseto degli Abruzzi, dopo giorni di sit-in davanti al casello autostradale dell'A14, oggi i trattori, circa una cinquantina, hanno sfilato sul lungomare Celommi con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione sulla problematica. Sostenere il nostro made in Italy, la nostra biodiversità, siamo il paese al mondo che ha più diversità biologiche e di prodotti, ne abbiamo per non averne più, quindi come siamo detentori dell'80% dell'arte nel mondo, siamo anche detentori del made in Italy e delle nostre peculiarità. Noi siamo un popolo attaccato alle nostre tradizioni e alla nostra terra. La protesta degli agricoltori terramani si inserisce in un contesto di malcontento diffuso tra le categorie produttive del paese, che chiedono maggiore attenzione e sostegno da parte del governo e delle istituzioni europee. Per protestare anche queste colture che non ci vogliono più pagare, non ci vogliono andare per il gasoglio e ci vogliono pagare solo tasse. Che momento vive l'agricoltura? Malissimo, non ci sono ancora arrivati i contributi della PAC, non ci hanno dato più il gasoglio nella bassa e non facciamo niente di più. Il grano ce lo pagano 20 euro al quintale, l'anno scorso lo pagavano 45 euro al quintale. I manifestanti, come a livello nazionale, denunciano le conseguenze negative delle politiche ambientali promosse dall'Unione Europea, che a loro avviso penalizzano il settore agricolo e favoriscono la speculazione. Oggi la sfilata qui a Roseto, poi? Poi martedì andremo a Teramo e poi vedremo, andremo all'Aquila, andremo a Roma, andremo a Bruxelles, andremo ovunque, perché non si ferma, è all'oltranza. Tanti cittadini che hanno appoggiato la protesta degli agricoltori. La cosa che mi ha colpito particolarmente, vedendo passare questi trattori, è che per la maggior parte sono tutti giovani, sono tutti dei ragazzi a cui, secondo me, questo tipo di politiche gli stanno togliendo il lavoro e il futuro. Ma la cosa che mi ha colpito veramente non sono persone di 50 anni, sono tutti ragazzi giovani. E coltivare la terra, lo sappiamo tutti, non è semplice, sicuramente anche dei costi alti, per cui, dal mio punto di vista, lo trovo veramente una cosa scandalosa. E questa protesta la trovo più che giusta. Loro stanno anche difendendo la qualità dei prodotti? Assolutamente, assolutamente. Ma io sono sempre del parere che, secondo me, bisogna cercare, nei limiti del possibile, di andare sempre nei piccoli negozi, al chilometro zero. Qui bisogna andare anche incontro alle piccole realtà.